Allora, prendete la Bibbia nel libro dei Proverbi, capitolo 3. Capitolo 3, versetti 5 e 6. Leggiamolo tutti insieme ad altavoce al mio cuore. 5 al mio... Sì, leggetelo al mio cuore. Leggiamolo tutti insieme ad altavoce al mio 3, dal versetto 5 e 6. 1, 2, 3. Confida nell'Eterno con tutto il tuo cuore, non appoggiarti sul tuo intendimento, riconoscilo in tutte le tue vie ed Egli raddrizzerà i tuoi sentieri. Confida nell'Eterno con tutto il cuore e non appoggiarti sul tuo intendimento, riconoscilo in tutte le tue vie e Egli appianerà i tuoi sentieri. 3 cose. Confida, non appoggiarti, riconoscilo e poi c'è la promessa, Lui raddrizzerà i tuoi sentieri. Quindi confida in Dio, non appoggiarti sulla tua intelligenza, ma riconoscilo in tutte le tue vie ed Egli appianerà i tuoi sentieri. Adesso leggiamo insieme Ebrei 12, versetto 13. Voi vi chiederete ma cosa c'entra questa canzone? Ebrei 12, versetto 13. Leggiamo dal versetto 12. Leggiamo anche questo tutti insieme al mio 3. Dai, 12 e 13. 1, 2, 3. Perciò rinfrancate le mani cadenti e le ginocchia vacillanti e fate dei sentieri dritti per i vostri piedi affinché ciò che è zoppo non divenga slogato ma sia piuttosto risanato. Quindi qua ci sta dicendo che dobbiamo rinfrancare le mani le mani cadenti possono essere le mani che non hanno più voglia di fare niente, le mani cadenti possono essere quelle che dicono oh ma ancora le mani cadenti possono essere quelle che non hanno più voglia di alzarsi per lodare Dio. E poi dice le ginocchia vacillanti quando è che ci tremano le ginocchia? Quando vacillano le nostre quando abbiamo paura? Oppure quando non abbiamo più voglia di piegarle per pregare Dio vacilla la nostra vita di preghiera. e qui dice che noi dobbiamo rinfrancare rinfrancare le mani cadenti e le ginocchia vacillanti e cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare dei sentieri dritti per i nostri piedi affinché ciò che è zoppo non diventi slogato ma sia piuttosto risanato. Ora se uno è zoppo non deve accontentarsi di aggiustarsi appena appena ma deve guarire completamente. Se uno è zoppo non deve accontentarsi di essere slogato ma deve diventare completamente sanato. Per quello dice fai dei sentieri dritti non fare delle vie un po' così fai un sentiero dritto affinché ciò che è zoppo non sia appena appena ma sia completamente risanato. E qui stiamo parlando di sentieri. Prima abbiamo letto riconoscilo in tutte le tue vie e lui appianerà i tuoi sentieri adesso abbiamo letto che dobbiamo fare dei sentieri dritti quindi Dio appiane i nostri sentieri ma noi dobbiamo anche fare dei sentieri dritti per i nostri piedi quindi c'è la parte di Dio e c'è la parte nostra. Amen? Ora noi tutti sappiamo credo che abbiate compreso che la nostra vita è un viaggio giusto? Siamo in viaggio? Il nostro viaggio è un viaggio bello perché è un viaggio dei cristiani siamo entrati nella via e siamo entrati in questo viaggio. Il problema nostro sapete qual è? È che a volte perdiamo di vista qual è la nostra meta. Siamo talmente indaffarati a risolvere le questioni della vita che ci dimentichiamo che siamo in viaggio perché dobbiamo andare in un posto e qui magari molti di voi diranno sì sì ma io in quel posto ci voglio andare molto tardi stiamo parlando della nostra vita eterna che è già iniziata perché noi stiamo vivendo una parte dell'eternità della nostra eternità sulla terra e quindi il nostro viaggio è già iniziato e noi stiamo camminando però a volte perdiamo di vista perché stiamo camminando dov'è che dobbiamo andare qual è la nostra speranza futura quindi camminiamo e teniamo sempre lo sguardo sulle cose di qua giù mentre invece dovremmo guardare di più le cose di lassù perché l'Apostolo Paolo ha detto noi stiamo camminando adesso in questo tempo in particolare ma in tutti i tempi della storia ci sono sempre state sofferenze guerre pestilenze rumori di guerre terremoti inondazioni di tutto e di più pensate alla grande inondazione quando è arrivato il diluvio pensate Noè cosa stava vivendo in quell'arca in un mondo che stava andando a catafascio e lui era l'unico in quell'arca sì è vero salvato ma pensate pensare che tutto il mondo si stava distruggendo ed è quello che succede anche adesso tutto intorno a noi ci parla di distruzione di guerra di rumori di guerre e quindi noi a volte siamo così concentrati su questa sofferenza nostra perché anche noi abbiamo una sofferenza per il mondo che è in travaglio così concentrati su questa sofferenza che facciamo una cosa cerchiamo di distrarci con altre cose e e ci vogliamo divertire ci vogliamo riposare vogliamo staccare la mente da certe cose e non è sbagliato ma non è quello che ci dà il vero riposo che ci dà la vera speranza che ci dà la vera gioia la vera certezza perché ciò che ci fa andare avanti nella vita è che tu stai guardando là dove vai dove sei destinato il cielo e quindi l'Apostolo Paolo diceva ma fratelli io vi dico che le sofferenze di questo tempo non sono assolutamente da paragonare alla gloria che noi vedremo nel cielo che noi vivremo nel cielo quindi quando tutto diventa così noi dobbiamo alzare il nostro sguardo e dire caspita ma io sono ho una padria lì che mi aspetta io ho il cielo che mi aspetta c'è la gloria che mi aspetta e più la guardo quella gloria e più sono in grado di riportarla anche un po' su questa terra ma meno la guardo e più vedo tutto quello che non va intorno a me e più mi scoraggio perché nel viaggio ci si può scoraggiare lo sapete? ora io in questi giorni ho preso in mano questo libro il pellegrinaggio del cristiano il pellegrinaggio di un cristiano è un classico della letteratura inglese ma è anche un classico della letteratura evangelica questo libro è stato scritto nel 1600 da John Bunyan penso che si pronunci così ed era un cristiano puritano lui che ha scritto questo libro in forma molto allegorica per cui in questo libro ci sono dei personaggi inventati uno si chiama Cristiano che è lui poi c'è Orgoglio poi c'è Ostinatezza poi c'è Aiuto insomma ci sono vari personaggi e parla proprio di questo viaggio lui viene incoraggiato da un personaggio che si chiama Evangelista che gli dice guarda che tu devi arrivare lì a attraversare quella porta quindi lui si mette in cammino per attraversare quella porta e quando si mette in cammino per attraversare quella porta incontra la valle la palude dello scoraggiamento incontra la palude dello scoraggiamento ma sapete anche Israele quando era nel deserto che doveva fare un viaggio di 40 giorni invece ne ha dovuti fare 40 anni di anni di viaggio a un certo punto all'inizio hanno attraversato il Mar Rosso sono passati in mezzo alle acque quando questo vagare continuava loro sono dovuti ripassare davanti al Mar Rosso e in numeri 21 proprio al versetto 4 c'è scritto che il popolo si scoraggiò a motivo del viaggio il viaggio li ha scoraggiati quindi loro quando gli hanno detto guarda che adesso dobbiamo andare di qua di là dobbiamo ripassare dal Mar Rosso si sono fatti prendere dallo scoraggiamento e hanno incominciato indovinate un po' a mormorare contro Mosè contro Aronne contro Dio contro tutti il viaggio li ha scoraggiati perché io ho pensato ma perché si sono scoraggiati perché il viaggio era lungo perché il viaggio era faticoso anzi avrebbero dovuto pensare caspita ripassiamo davanti al luogo della nostra grande vittoria il Mar Rosso ripassiamo lì dove abbiamo visto il mare che si apriva ripassiamo lì dove abbiamo visto i carri del faraone inghiottiti ripassiamo lì dove possiamo ricordarci il canto che abbiamo cantato quando siamo usciti da lì e invece loro si sono scoraggiati perché ancora qua siamo ancora qua il Mar Rosso ancora le stesse cose ancora sempre gli stessi problemi ancora il Mar Rosso ancora la stessa strada ancora le stesse facce ancora la stessa vita ancora questo deserto ancora questo viaggio e poi hanno detto siamo stufi di mangiare questa manna che viene dal cielo e ora noi sappiamo nel Nuovo Testamento che quella manna era Cristo siamo stufi di mangiare questa manna che viene dal cielo ho pensato forse si sono scoraggiati perché quando hanno fatto questo viaggio comunque è stato bello perché hanno visto un miracolo potente però hanno avuto anche tanta paura hanno visto che quelli là gli egiziani li correvano dietro nel mare li hanno inseguiti dentro il mare sono dovuti passare attraverso due mura di acqua altissime forse forse è stato un evento potente glorioso ma nello stesso tempo anche un evento traumatico che li ha portati a vivere una paura un'ansietà magari non tutti magari alcuni e quindi ritornare a passare di là non gli ha fatto ricordare che là hanno visto la potenza di Dio ma gli ha fatto ricordare che là hanno visto gli egiziani che li inseguivano che là hanno visto le mura che gli potevano cadere addosso da un momento all'altro tutto può essere ma è la stessa cosa che viviamo noi è la stessa cosa che viviamo noi quando ci ritroviamo a fare lo stesso giro le stesse cose la stessa vita le stesse sfide e invece di ricordarci come Dio è stato con noi ci lamentiamo del viaggio ma il nostro viaggio è glorioso perché sapete che via è la nostra chi ha detto io sono la via chi l'ha detto Gesù quindi la nostra via è Gesù è la nostra vita e poi Gesù ha anche detto in Giovanni 10.10 io sono la porta quindi noi passiamo siamo passati per la porta e abbiamo iniziato il nostro viaggio ma a volte può succedere che durante il viaggio ci scoraggiamo come cristiano nel pellegrinaggio del cristiano qua quando doveva raggiungere quel luogo ha incontrato la palude e ci è caduto dentro la palude dello scolargiamento ci è caduto dentro e a un certo punto un altro personaggio che si chiamava aiuto gli ha steso la mano e lo ha tirato fuori chi è il nostro aiuto nel viaggio Spirito Santo io vi manderò un altro come me lui sarà con voi vi guiderà vi insegnerà vi ricorderà vi ammaestrerà lo Spirito Santo lo Spirito Santo l'ha tirato fuori e gli ha detto ma non ti sei accorto che c'erano delle passerelle per andare oltre la palude non ti sei accorto che se tu avessi camminato su queste passerelle non saresti caduto nel fango anche noi a volte facciamo così no? non ci accorgiamo che ci sono le soluzioni cosa ha detto? l'Apostolo Paolo ha detto che Dio non ci tenta al di là delle nostre forze ma nella tentazione ci dà la via di uscita la via c'è sempre la via di uscita c'è sempre la mano stesa c'è sempre una passarella che ci può portare fuori dalla situazione ma noi quando ci incontriamo le sfide dello scoraggiamento guardiamo lo scoraggiamento e non guardiamo che noi siamo destinati al cielo e non ci ricordiamo che le sofferenze del tempo presente non sono proprio da paragonare alla gloria che vivremo nel cielo se noi non ci concentriamo su questo credetemi non saremo di aiuto a nessuno perché diventeremo come gli altri che non hanno speranza che non stanno guardando al loro futuro glorioso amen? e noi dobbiamo trasmettere a questa società la speranza dell'eternità e del futuro glorioso sapete la divina commedia inizia con questa frase non so se tutti conoscete cos'è la divina commedia ma è un classico della letteratura italiana e il primo verso il verso dell'inferno Dante scrive nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai in una selva oscura che la diritta via era smarrita nel mezzo del cammin di nostra vita mi sono ritrovato in una selva oscura e ho perso la dritta via ma noi siamo nella dritta via ora vi faccio vedere un'immagine di una persona che ha dipinto un quadro anni fa che non era credente quando ha dipinto questo quadro mi mandi un'immagine per favore questo quadro lo ha dipinto Angelo Scrascia e io l'ho visto la prima volta in casa di mia sorella che sarebbe la cognata di Angelo Scrascia perché le mie sorelle hanno sposato due fratelli quando l'ho visto ho detto ma chi è che ha dipinto questo quadro e mi hanno detto che era stato il fratello di Mino il fratello di Angelo insomma ho detto caspita ma questa persona sta cercando una porta sta cercando una via d'uscita e ha visto qualcosa ora vedete che da questa parte del quadro c'è un deserto da questa parte qui tra le due colonne si vede una città sommersa dall'acqua quando io l'ho visto e poi quella nuvola di pioggia che non scende la pioggia la pioggia è bloccata lì nelle nuvole e non riesce a scendere quando io l'ho visto ho detto ma questa persona sta cercando qualcosa come fa a avere questa come ha fatto avere questa idea di fare questo quadro e questo fatto di passare che oltre quella colonna che è una porta c'è il deserto c'è l'inondazione e da questa parte c'è una bella città mandami l'altra immagine la prima immagine quando noi entriamo nella vita nella via lo facciamo per fede e quando ci troviamo davanti a questa porta in realtà non sappiamo bene cosa ci aspetta dall'altra parte può essere sappiamo che dobbiamo passare per la porta cosa ha detto Gesù nel Vangelo di Matteo ha detto che larga e spaziosa è la via e la porta che porta alla perdizione ma stretta è la porta e stretta la via che ci porterà nel cielo ma quando dice stretta non è che stretta vuol dire che non ci sarà niente vuol dire che ci devi voler passare ci devi voler passare lì quindi una volta che noi siamo passati per quella porta mandami pure l'altra immagine si apre un mondo si apre un mondo che magari prima non vedevamo e quando entri per la via tu continui a percorrere la tua via ma devi tenere gli occhi su Gesù autore compitore e sulla tua speranza eterna sulla città celeste sulla gloria sul cielo sull'eternità sul fatto che ti incontrerai con Gesù sul fatto che non vivi solamente per questa vita che non vivi solamente per andare a lavorare guadagnare soldi ma vivi per qualche cosa di più alto ora quando noi intraprendiamo un percorso in montagna per esempio prendiamo un sentiero all'inizio abbiamo parlato dei sentieri prendiamo un sentiero per riconoscere quel sentiero e non sbagliare strada prima di intraprendere i sentieri ci sono delle diciture delle scritte delle figi dove ti dice questo sentiero è di questo colore questo di questo colore tu decidi che sentiero prendere e quel segno devi seguire perché sai che è un percorso tracciato che ti porterà a un certo punto quindi quando tu sei nella via devi sempre cosa abbiamo detto prima confida in Dio non appoggiarti sul tuo intendimento ma riconoscilo in tutte le tue vie quindi tu sei sulla via non ti devi appoggiare sul tuo intendimento ma sui segni e i segni per noi di che colore sono chiesa rosso dove c'è vittoria dove c'è redenzione dove c'è l'opera compiuta di Gesù quello lì è il segno che dobbiamo seguire e continuare il cammino continuando a seguire quel segno quello è il segno che dobbiamo seguire e andare avanti ora mentre noi siamo in cammino voglio leggervi qualcosa leggiamo un attimo prima Corinzi 15 19 prima Corinzi 15 se noi speriamo in Cristo in questa vita soltanto noi siamo i più miserabili degli uomini wow se noi stiamo sperando in Cristo solamente per avere una vita decente qua su questa terra noi siamo i più miserabili degli uomini perché lui è risorto e ci ha aperto la strada quindi se noi viviamo su questa terra solamente guardando le cose terrene solamente cercando di risolvere le cose terrene solamente cercando di appagare la nostra anima solamente cercando di soffrire di meno noi siamo i più miserabili degli uomini ma se noi camminiamo in questa vita sapendo che abbiamo un cielo che ci aspetta una gloria che ci aspetta un'eternità che ci aspetta un posto meraviglioso che ci aspetta noi usciamo dalla nostra miseria guardate che la parola miserabile è pesante molto pesante noi siamo i più miserabili degli uomini e più poveri degli uomini se non abbiamo chiaro in mente dove siamo destinati che il cielo ci appartiene and when the sun go marching in alleluia io voglio essere nella schiera di quelli che sono in marcia per andare lì e noi siamo tutti in marcia per andare lì è un cammino che ci unisce è un cammino che ci contraddistingue è un cammino che fa parte della nostra vita siamo tutti in marcia per andare lì sia che abbiamo 50 anni 80 anni 10 anni 15 anni comunque quella è la nostra destinazione futura che prima o chi dopo noi andremo lì e di questa gloria di questa bellezza di questa gloriosa presenza noi ci dobbiamo riempire se vogliamo vivere l'eternità su questa terra con questa consapevolezza e non vivere solamente sperando per questa vita ma noi speriamo per qualcosa di glorioso e allora saremo anche più forti per affrontare le sfide della vita e non faremo così che gireremo intorno al deserto piangendoci addosso ma passeremo per il deserto per il Mar Rosso scusate e diremo caspita qui il Signore ci ha liberato una volta e ci libererà ancora amen abbiamo visto la potenza di Dio e la vedremo di nuovo e la vedremo di nuovo quando noi siamo in cammino ah sapete una cosa mi prendo un pochettino più di tempo rispetto al primo culto ci sono dei cammini che gli uomini hanno fatto su questa terra uno dei più famosi in Europa è il cammino di Santiago che parte il più famoso è quello che parte dalla Francia e arriva in Spagna e le persone si mettono in cammino questo cammino è lungo 800 chilometri le persone si mettono in cammino su questo percorso per arrivare a un santuario il santuario di San Giacomo che è là a Compostela mi sembra e quando arrivano là è finito il viaggio siamo arrivati e poi o tornano a piedi o prendono il treno e l'aereo e tornano a casa molte persone si mettono in cammino in questo viaggio quando devono ritrovare se stesse quando hanno subito un grosso dispiacere quando sono entrate in una crisi per qualsiasi motivo ma in particolare per questi motivi perché dicono che camminare in particolare in mezzo alla natura camminare faccia bene per essere guariti e ristorati è vero infatti a me piacerebbe fare un'esperienza di questo genere ma non per andare a un santuario ma per godermi la vita mentre cammino per godermi la bellezza del creato per godermi il piacere magari di camminare insieme a qualcuno perché no sarebbe bello no? però esistono queste queste cose per aiutare le persone ad essere concentrati sul cammino e non su quello che succede intorno perché tu quando cammini 800 chilometri ci vuole un mese per farlo ti dimentichi di tutto sei in cammino e ti dimentichi di tutto vivi una dimensione diversa perché vi sto dicendo questo? perché in realtà noi credenti siamo in cammino stiamo facendo quel tipo di viaggio lì noi non dobbiamo arrivare a un santuario dobbiamo arrivare in cielo nella Gerusalemme celeste alla presenza di Dio ma siamo in cammino e in questo cammino noi ci dobbiamo godere il viaggio dobbiamo guzzarsi il panorama e in questo cammino a volte abbiamo delle tappe da fare come nel cammino di Santiago abbiamo delle tappe da fare una di queste per esempio ce la dice Gesù nel Vangelo nel Vangelo di vi dico subito di Luca al capitolo 12 dove Gesù dice quando vai per strada con il tuo avversario e lo vuoi portare davanti al giudice perché magari hai una questione in sospeso con qualcuno e quindi vuoi portarlo davanti al giudice nel cammino siete in cammino sulla strada per andare dal giudice e fare in modo che la situazione sia risolta quando tu sei in questa situazione qui non arrivare davanti al giudice fermati e cerca di mettere a posto le cose mentre sei in viaggio questo parafrasando è quello che sta dicendo Gesù fai di tutto per accordarti con il tuo avversario con il tuo nemico fai di tutto non lasciare questa situazione in sospeso accordati con lui trova una soluzione e questa è la via del perdono perché quando noi entriamo nel cammino troviamo anche dei sentieri che ci portano a risolvere delle situazioni nella vita quindi la via del perdono ti sei incamminato nel cammino lì troverai anche il sentiero del perdono e mentre sei in viaggio metti a posto le tue cose sapete che si usa che quando uno sta per morire vuole chiamare tutti dire eh mi sistemo questo sistemo facciamolo ma non quando arriveremo all'ultimo respiro della nostra vita mentre siamo in viaggio mettiamo a posto il nostro cammino facciamo dei sentieri dritti per i nostri piedi non facciamo non aggiustiamo le cose in qualche modo ma facciamo in modo che i nostri piedi non siano slogati ma risanati amè e poi un'altra tappa la troviamo nella via della misericordia e sempre in Lucca troviamo la parabola del buon samaritano di quest'uomo che era in viaggio stava facendo il suo cammino e mentre era in viaggio trova un viandante che era stato picchiato derubato e lui si ferma per prestargli le giuste cure e nel nostro cammino dobbiamo incontrare anche il sentiero della misericordia e quando ci fermiamo per aiutare qualcuno nel sentiero della misericordia non stiamo perdendo tempo non arriveremo in ritardo non perderemo il nostro tempo prezioso ma staremo acquistando qualcosa di prezioso fermati confida in Dio con tutto il tuo cuore riconoscilo non appoggiarti sul tuo intendimento riconoscilo che cosa ha riconosciuto lì il buon samaritano Dio e Dio riconosce te in quegli atti di misericordia e poi vi ricordate due sulla via di Emmaus che stavano camminando con Gesù però non l'avevano ancora riconosciuto e quindi quando poi Gesù si manifesta loro loro dicono ma mentre Gesù ci parlava non sentivi che il nostro cuore ardeva mentre lui ci stava parlando perché perché ardeva il loro cuore perché mentre Gesù gli parlava loro sapevano di aver magari già sentito quelle cose già ascoltato e il risentirle e quella voce ha risvegliato in loro qualcosa la parola di Gesù ascoltare la parola fermarsi e ascoltare la parola io dice il salmista cammino correrò nella via dei tuoi comandamenti perché tu mi allargerai il cuore tu mi allargerai al cuore mentre io cammino la tua parola è una lampada al mio piede una luce sul mio sentiero e anche Giobbe quando si è trovato in un momento di confusione nella sua vita diceva io non lo sto vedendo io non lo sto sentendo non ci capisco niente in quello che mi sta succedendo però una cosa so che io ho seguito le sue orme e non mi sono allontanato dal cammino amèn non mi sono allontanato dal cammino alleluia che meraviglia che cosa meravigliosa gloria a Dio nel cammino dobbiamo imparare anche a riconoscerlo come fai a riconoscere Dio nel cammino riconoscilo in tutte le tue vie noi abbiamo tante vie che si aprono davanti a noi no? vie che rappresentano anche scelte che noi facciamo nella vita a me è capitato ad esempio qualche anno fa di fare un viaggio insieme al pastore Angelo e ai nostri figli insieme anche a Davide siamo andati a visitare i castelli della Loira in Francia questo viaggio l'abbiamo voluto fare perché 35 anni fa 34 anni fa noi volevamo fare questo viaggio in moto e visitare tutti i castelli della Loira in moto in Francia ma quell'estate io mi sono accorta di essere incinta e quindi abbiamo incinta di Selene abbiamo rinunciato al viaggio e lo abbiamo lasciato lì 34 anni dopo facciamo lo stesso viaggio non più in moto ma con una macchina grande e con i nostri figli Selene Davide Gabriele Davide e andiamo a visitare i castelli della Loira vedete che a volte noi non capiamo perché ci sono dei ritardi nel viaggio non capiamo perché certe cose non le abbiamo potute fare non capiamo perché ci arrestiamo a volte ma Dio ci restituisce delle cose che magari noi pensiamo di aver perso nel viaggio l'importante è che noi rimaniamo nel cammino comunque la storia non è proprio questa la storia è un'altra la storia è che mentre stavamo facendo questo viaggio ci fermiamo a un autogrill in Francia e è interessante andare negli autogrill delle altre nazioni perché sono un po' diversi dai nostri no? e quindi io sono entrata in questo autogrill e ero lì che mi guardavo tutte le cose i cibi i gadget e in quel periodo stavo riflettendo e pensando al fatto se andare avanti con l'impronta o no se continuare o no se essere coinvolta così tanto stavo pensando a tutte queste cose perché a volte tu giri intorno al Mar Rosso è una volta è due volte è tre volte è quattro volte è cinque volte è un anno è due anni è tre anni è quattro anni siamo arrivati quasi a dieci di questo giro allora io ero lì che mi chiedevo queste cose in quei giorni e mentre sono lì all'autogrill in Francia che sto pensando ad altro mi giro e vedo una mamma con un bambino in braccio e il mio sguardo si incrocia perfettamente con lo sguardo del bambino e negli occhi di quel bambino io ho riconosciuto Dio ero lì nella via l'ho guardato e ho visto Dio che mi ha parlato e mi ha detto vai avanti io ho visto Dio negli occhi di quel bambino erano due occhi così azzurro cielo io ho visto tutto tutta l'eternità in quello sguardo è stata un'esperienza trapassante meravigliosa gloriosa Dio mi ha parlato così un attimo una frazione di secondo riconoscilo in tutte le tue vie non appoggiarti io potevo decidere ma si basta ma si non lo voglio fare più ma si ma confida in Dio con tutto il tuo cuore non appoggiarti su quello che tu pensi che sia giusto ma riconoscilo in tutte le tue vie e Lui appianerà i tuoi sentieri Amen Io non la so tutta Alleluia gli occhi verso l'eternità verso la gloria verso il cielo verso la città meravigliosa la Gerusalemme celeste mettimi l'ultima immagine Isabel che me la sono dimenticata al primo culto ma quando apri quella porta ecco ecco quando apri quella porta ecco che cosa i tuoi occhi devono vedere che cosa sono le sofferenze di questo tempo davanti alla gloria che ci aspetta nel cielo togliamo gli occhi da queste cose ma non perché ce ne vogliamo infischiare no perché dobbiamo essere forti dobbiamo essere pieni di speranza dobbiamo essere pieni di gioia dobbiamo essere pieni di gioia perché uno che sta guardando lì la Gerusalemme celeste non può essere triste non può essere sopraffatto dalle tribolazioni non può essere sopraffatto dai dispiaceri deve vincere deve guardare oltre guardiamo oltre non facciamo come Israele che davanti al Mar Rosso si è fatto prendere dallo scoraggiamento non cadiamo dentro quella palude di scoraggiamento come cristiano nel libro ma teniamo gli occhi su Gesù autore compitore della nostra fede con il grandissimo vantaggio che abbiamo aiuto Spirito Santo Cristo in noi speranza di gloria Cristo in noi speranza di gloria Amen Alleluia possiamo ricantare il pezzo che abbiamo cantato all'inizio no l'ultimo pezzo che dice aspetta che mi sono segnata la frase perché ho detto caspita questa è proprio il culto di oggi tu sei il solo Dio non c'è ombra né paura liberi da ogni paura questa frase qua camminiamo avanti dritti verso di te Amen alziamoci in piedi e diamogli la gloria lui è degno apriamo gli occhi sulla gloria del cielo dove Cristo è seduto alla destra di Dio Alleluia e noi insieme a Lui nei luoghi celesti in Cristo Gesù Amen Alleluia Grazie a tutti 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 Grazie a tutti